In pochi mesi Paolo di Laura Frattura precipita l'ultimo posto in tutta Italia nella scala del gradimento popolare sui presidenti della regione. Una stangata fenomenale, ma il presidente ha subito l'alibi pronto e perde l'occasione di tacere. Di fronte al calo del gradimento, scrive Frattura, forse a tarda sera, è giusto riflettere insieme su come il governo regionale stia pagando lo scotto di scelte impopolari ma necessarie, assunte in particolare per i servizi essenziali, sanità, trasporti, scuola, passando per le partecipate. Quali siano i diritti e la qualità dei servizi garantiti in questa regione e a quale sviluppo si riferisca Frattura non è chiaro. È chiara invece la volontà di scaricare la colta sul difficile momento economico e sulle scelte impopolari. Come se gli altri governatori fossero nella condizione invidiabile di fare scelte generose sottratte alla crisi per miracolo. Questo crollo dei consensi, dunque, secondo Frattura, non è dovuto allo scontento creato tra i giovani, gli artigiani, gli agricoltori, gli edili, gli imprenditori, i commercianti e i lavoratori, ridotti a carne da macello dalle infinite vertenze aperte e mai affrontate. Non è dovuto alla cocente delusione dei cittadini molisani, vittime di un amministratore incapace, politicamente parlando, inidoneo, incompetente, impreparato, inadeguato su tutta la linea in ogni settore e di fronte a qualunque problema. Un presidente che è passato come un trattore su tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Un presidente che ha sacrificato e mortificato l'interesse pubblico sul tavolo delle urgenze private, sue e dei propri alleati. E se ne sono accorti tutti. E se ne sono accorti tutti perché, con la spocchia e il senso di impunità che contraddistingue questo governo regionale, un governo che si ritiene sicuramente attorto al riparo dalle indagini giudiziarie grazie alla copertura delle reti amicali e parentelari, sono state portate avanti regolarmente e alla luce del sole iniziative impopolari, sì, ma non perché dettate dalla congiuntura economica, bensì perché a vantaggio dei soliti noti, compresi i profughi di centrodestra. Alla luce del sole sono stati sistemati tutti i soci in affari nella pubblica amministrazione. Alla luce del sole sono stati realizzati interventi a favore delle biomasse con ricaduta sulle società di amici, parenti e prestanomi. Alla luce del sole hanno rinnegato l'impegno elettorale a dimezzarsi le indennità, trovando perfino il coraggio di aumentarsele. Alla luce del sole si è proceduto a smantellare la sanità pubblica a beneficio di quella privata, che in questa regione ha il nome di Aldo Patriciello, non a caso il più forte alleato di frattura. In attesa di verificare con la dovuta calma se alla luce del sole non sia stato affidato pure un incarico esterno da 80.000 euro alla ex segretaria di un giudice del Tar Molise. E tutto questo nell'imbarazzo di una coalizione che si definisce di sinistra, ma che è annientata nelle sue funzioni e nelle sue battaglie storiche. E allora suona puerile l'alibi tirato fuori da frattura per giustificare la sonora pedata ricevuta dai cittadini. I cittadini non vedono l'ora di liberarsi di lui e di archiviarlo definitivamente come un infelice incidente di percorso.